ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un video speciale un video che non potevo attendere per mostrarvi perché ho deciso di ributtarmi su final fantasy 14 anche sotto consiglio di alcuni di voi che mi hanno detto guarda decolla dopo le prime numerose ore infatti all'inizio non aveva diciamo stupito così tanto per quanto avesse tutte le potenzialità che io cercavo in un mmo che potevano essere ad esempio le mount volanti l'housing il crafting e le attività secondarie unito a un mondo davvero molto molto carino so avevo già fatto dei video su final fantasy e avevo fatto un video su final fantasy a proposito della tap l'applicazione di traduzione ma ho trovato un'applicazione ancora meglio sul consiglio di uno di voi che l'ha scritto nel sotto nei commenti di quel video sto provando la tataru helper è un'app veramente bella veramente ben fatta che vi permette di avere in gioco in modo completamente automatico c'è questa tataru app tataru helper digitati su google lo trovate andate su download la scaricate la avviate ed è già praticamente configurata per mostrarvi in un quadrato che all'inizio è mostrato qua in alto io l'ho abbassato qui tutto quello che viene detto a livello di cutscene quindi nelle scene di dove c'è il filmato con i dialoghi qua esce anche chi sta parlando e durante le conversazioni con i vari in pc adesso parliamo con lui ovviamente quello che esce nelle quest diciamo quindi adesso io avanzo verso verso questo ci parlo qua non viene tradotto però cosa dice qua capitano della nave vuole insomma darti un incarico insomma quello che è e la ricompensa questo si capisce ora andremo a vedere come funziona la cosa che mi ha spinto a fare il video il fatto che comunque voi potete scegliere diversi motori di traduzione c'è google traduttore e anche un altro di cui non ricordo il nome e praticamente adesso vediamo se riesco a farvela vedere eccolo qui dovete selezionare all'interno del programma cutscene nessuna ritardo qua potete selezionare lo sfondo della casella qua potete selezionare quali caselle di gioco far riconoscere tradurre e con che colore di carattere qua uso il dip l lo trovo meno diciamo problematico di google translator poi ci sono questi altri papago e baidu scegliete inglese e italiano fine qua è tutto quello che dovete fare mi riconosce in automatico il processo di gioco e lo giocate è interessante perché sono riuscito anche a capire delle battute che hanno fatto i personaggi o comunque quelle sfaccettature quei dettagli delle conversazioni è ovvio che se conoscete un minimo l'inglese spesso la traduzione magari non è precisa dice delle cavolate e se buttate un occhio anche al testo qui sotto magari ci capite un pochino di più comunque ora andiamo a parlare con vediamo che questa città vedete qua compare la chat ma quasi è aggiornato by way of tanks of delivery my scattled lavender ok qua dice a titolo di ringraziamento per avermi consegnato la mia lavanda sparsa c'è perché la sparsa per terra ho una pepita una pepita di informazione che potrebbe esserti utile e che poi è letterale perché ai eva nugget of information vorrebbe dire magari una picco è un gergo magari una una piccola informazione ma leggendolo così è tutto un'altra cosa vede recentemente sono stato avvicinato da un maritimo trasandato potrebbe essere tradotto come un marinaio però c'è cavoli meglio di così il che non è lo ammetto particolarmente insolito per un uomo che fa la mia professione quindi lui è stato avvicinato a sto tizio cioè avete capito il senso perché qua mi rendo conto che perdete veramente tanto tempo anche a cercare tutte quelle parole gergali è vero imparate ma probabilmente imparate qualcosa che così nella lingua parlata non serve così tanto comunque andiamo avanti clicco e vedete qua si aggiorna la cosa insolita è che ha offerto una generosa somma di gil di gil per essere presentato a qualsiasi avventuriero che potrei conoscere secondo la mia esperienza e marinaio non sono noti per portare con sé a notare ricazza di denaro specialmente con le birrerie di l'imps al minsa che la città dove siamo così dice i rapimenti non sono stati rari queste lune passate sì perché io già quando avevo iniziato con un altro personaggio l'avventura avevo capito leggendo senza traduttori che c'erano dei rapimenti però anche un dialogo di questo tipo di questo tipo in sfaccettatore magari non l'avrei capito del tutto ti suggerisco la vediamo un attimo perché ma l'ha tradotto questo si ha ancora qualche problemino dico perché si era a meno che non sono stato un babbano io e ho disattivato qualcosa no bisogna sempre fare attenzione a tutto selezionato qua ok vabbè ci siamo persi l'ultima parte va bene dobbiamo parlare con glazzan ok qua viene sempre il riassunto delle delle conversazioni possiamo andare avanti a completare la quest ma potrei andare avanti e vedere che cosa ha da offrirmi questo tizio qui accetto un po di missioni così vediamo allora jane sim mi scusi signorina potrebbe avere un momento due da dedicarmi e sembra il tipo a cui piace essere avvicinato per compiti uomini e ho bisogno di qualcuno che faccia una consegna alle sorelle doverose e qui vedete con la dutiful sister ed al vice le sorelle doverose si legge al dovere insomma va bene non sarei sorpreso vabbè lei è una lei non ne tiene conto perché non si capisce nell'inglese che ne avessi sentito parlare sorelle preferiscono pubblicizzare la loro presenza qui all'insa lo minsa tuttavia forniscono un servizio piuttosto unico in cui il consorzio perché è stato recentemente beneficiario vorrei che consegnaste questo pacchetto al loro portiere insieme alla nostra profonda gratitudine posso ti accettare va bene vediamo un attimo questa quest dove ma lì ok è in culonia devo girare giù credo da questa parte mi pare se non sbaglio si dovrà prenderla e andiamo a consegnarla ovviamente non traduce cioè volendo potete tradurre anche la chat quindi avere un riassunto anche di tutta la chat non so quanto sia utile perché alla fine un minimo di conoscenza ok potete giocare con gilde italiane la domanda che sorge spontanea è ha senso giocare così secondo me sì perché per quanto io sia uno che non non ama tutti quegli orpelli eccessivi che sono magari inutili alla praticità del giocare a un gioco ma essendo final fantasy 14 fortemente basato sulla storia e non ha senso fare avanti avanti fatto questo perché di per sé le quest sono quelle degli mmo e quindi andate uccidete andate fateci però i final fantasy ci sono in final fantasy ci sono delle quest magari con qualche colpo di scena soprattutto se andate a vedere come ho fatto io quello che pensano delle varie espansioni dei vari DLC delle varie storie dicono che questa buona storia la storia già della prima espansione è eccezionale e quel punto vi deprimente non giocate più perché dite ok storia bellissima ma devo leggerla quindi quindi un casino con questo comunque vi aiuta anche a capire cosa sta succedendo ovvio che poi almeno per me la sensazione è quella che dovrò staccare ogni tanto da questo leggere questo quindi prendo la quest vado magari intanto mi svago un attimo mi uscito qualche mostro mi guardo un po l'inventario insomma vi faccio le varie cose parliamo con questo sì queste sono le sorelle doverose dell'Enderweiss una casa di profonda riflessione e meditazione quindi a meno che non abbiate a fare i seri con noi potete gentilmente levarvi dalle palle questo l'ho tradotto proprio bene è ovvio che in alcuni casi parte con una dicitura e ad esempio il tizio si era dimenticato di dirmi una cosa gli ho detto fa un culo e non aveva senso però era anche riferito al fatto che lui comunque aveva perso la memoria e l'infarinatura che mi ha dato di questo mondo quando sono sbarcato con questa nave ce l'ho avuta grazie a questo programma qua che mi ha fatto guadagnare un sacco di tempo comunque consegno questo a loro ciao palì che cos'è questo allora un pacco del consorzio brugger eh andiamo un'occhiata all'interno vedete che siete curiosi anche voi di sapere che cos'è beh io qua capisco che dovrebbe essere pane tipo lo zenzero biscotti e lo zenzero insomma però vediamo o pane alle noci biscotti e lo zenzero vedete mi sono saltato walnuts walnuts barretta n ginger c'è n apostrofo è una un gergo anche a n affio o invece di off vediamo come lo traduce qua o pane alle noci biscotti e lo zenzero e anche qualche sandwich di bismarck quelli del consorzio conoscono il modo giusto per dimostrare la loro riconoscenza alcune di quelle sorelle hanno appetiti diabolici quindi farà in meglio conservare qualche mosso per me stesso prima di portare questo dentro per sapere a jansim che siamo sempre qui se il suo capo avesse ancora bisogno di noi va bene abbiamo completato ok qua ci dice che c'è un'altra questo ma non possiamo accettarla non c'è niente dietro al porto di questo convento per un tipo mondano come lei signora siamo le sorelle doverosa vattene via ok grazie già cambiato umore ovvero totalmente va bene ce ne torniamo su comunque abbiamo visto che per quanto fosse una quest banale avevamo questo pacchetto misterioso l'abbiamo aperto e grazie al programmino lo abbiamo tradotto ora mi voglio dire in breve il programmino l'ho detto all'inizio si chiama vediamo se riesco a farvelo vedere about tataru help lo trovate su questo link gifdub.com slash nightly revenge lo scaricate un ex parte esattamente così riconoscendo automatico il gioco l'unica cosa che dovete fare è spuntare cutscene e poi selezionare il carattere della chat lo sfondo se lo volete non trasparente io l'ho messo nero perché almeno se c'è uno sfondo magari bianco il testo è bianco oppure nero e il testo nero si fa fatica leggere però potete fare come volete la spaziatura l'altezza della interruzione in linea il tipo di traduttore e cosa tradurre del gioco fine il gioco poi è tradotto in automatico quindi lo trovate lì poi ovviamente non scrivetemi dove scarico il gioco il traduttore ve l'ho detto insomma e mi sto trovando molto ma molto ma molto meglio che il tap translator app perché bisogna premere sempre i tasti configurati selezionare la cosa da tradurre magari spesso non la riconosceva perché c'era qualcosa che magari dava fastidio al riconoscimento dei caratteri mentre invece in questo traduttore è già all'interno ha già delle cartelle che va a riconoscere il gioco la struttura del gioco poi se qualcuno di voi invece lo già lo usa e vuole consigliarmi magari modo di tradurre anche altre cose non che io ne senta il bisogno in realtà me lo dica pure hai consegnato il che devo richiesto molto bene a riferire ai sentimenti delle sorelle al mio superiore e alla fine la traduzione così bene che tipo di servizi forniscono le sorelle doverose è come se non glielo avessimo chiesto e ci risponde continua il tuo soggiorno all'imsa lo minsa e probabilmente lo scoprirai presto infatti se sei sicuro delle tue capacità è a tuo agio con il convenzionale vedete qua è sbagliato è a tuo agio con il convenzionale me lo vado a vedere ed è unconventional quindi e sei a tuo agio con tutto quello che non è convenzionale potresti volerle avvicinare tu stesso li avvicinerai insomma in qualche modo la traduzione è questo cioè alla fine piuttosto che non avere il gioco direi che non critico questa cosa perché ecco il gioco vi ricordo è disponibile in free to play quindi una sorta di di beta insomma non beta modalità free ecco fino al livello 50 forse la prima espansione anche però avete delle limitazioni cioè non potete andare a commerciare allora quello che mi hanno detto e il mio dilemma era quello ha senso giocare in free senza poter tenere più di tot soldi senza poter commerciare all'asta senza poter magari fare gruppo se non essendo invitato messi però da tenere conto che però mi piacerebbe tanto commerciare poi io sono andato a scrivere su una sotto un video di una persona che fa video su final fantasy gli ho detto ma scusami io amo questo questo e questo perché dovrei giocare con la versione base perché quella pagamento poi ha un canone mensile e quello che mi ha detto è stato beh lo puoi fare subito è vero non lo puoi fare con la versione free del gioco però già se tu ti godi la storia ai livello poi per fare tutto il resto poi ovvio che si vuole far subito tutto non si prende infatti l'ho preso fino all'ultima espansione e breve uscirà la nuova ma per quella bisogna vedere se adesso continuerò a giocare e basta la comodità è che itinerant muggle non so cosa sia qua si può fare uno scambio niente poi c'è penso anche qualche evento per alluvian forse in questo qui cosa vuol fare si vuol buttare giù allora sweetnicks sweetnicks è si qua non l'ha tradotto ma è tipo un crafty smart un trade maker fa affari sweetnicks fa un affare occupato con i montanari bisogna consegnare la lettera alla porta di melvan ma sweetnicks ha i brividi un plunder un plunder vabbè si sarebbe in pratica uomo di sopra consegna una lettera signora del tasse si va bene consegniamo cioè qua vabbè non era nulla di nulla di che è ovvio che l'importanza di questo di questo traduttore arriva nel momento in cui c'è la storia ci troviamo in fronte alla storia quindi la storia va capita senz'altro quindi poi la storia poi va a sbloccarci le varie cose la mia razza che ho scelto è la razza di viera viera che è una razza delle banni non so cosa e credo che usciranno anche le versioni da uomo cioè adesso puoi far solo donna e con la nuova espansione and walker che esce il 23 di novembre insieme un sacco di altre cose però calcolando che già la versione fino all'ultima l'ultimo dlc ci sono 80 dungeon da fare è comodo perché poi ci sono anche le diciture dei boss quindi viene a tradurre anche anche quello comunque pitania dobbiamo consegnare qua vediamo dov'è sweetenix con quei documenti di importazione senza la documentazione adeguata temo che dovremmo sperverlo dalla città questa l'avevo già fatta e l'avevo anche piuttosto capita però il tempo che ci ho perso a tradurre quella parte lì leggendola quella volta adesso mi è stata un po' più voce ma questi sono i dischi di sweetenix e sono felice di vedere che sono stati presentati in tempo onestamente si potrebbe pensare che quel folletto abbia mai perso la paura abbia mai perso la paura nei nostri uffici ogni mese deve presentare questi documenti e ogni mese il suo ritardo mi costringe a considerare la sua rimozione ma in realtà mi ha dato me finché si segue la procedura corretta lì mi salominsa abbastanza accogliente con i commercianti stranieri prego di trasmettere queste parole a sweetenix forse aiuterà a calmare le paure del povero goblin e qua avrei un'altra quest da prendere ancora intanto mi sto facendo un po' di experience facendo cose qui alla porta di Malvern ispezioniamo tutte le merce che vengono importate dall'insalmenza pensate anche solo adesso a leggere tutto questo testo che normalmente si fa avanti 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 sapete che cos'è questo posto e riscuotiamo i dazi come avrei visto dalla legge alcuni mercanti tuttavia cercano di aiudere questo obbligo e noi dobbiamo inseguirli vi sta ricordo se poteste consegnare questi due libri master uno è un uomo chiamato Sundimal che troverete all'Octant tra l'altro è una donna chiamata Lillatiscia che lavora al Bismarck che Bismarck si parlava di cibo insomma per il Bismarck bene se non sei sicuro di dove si trova la Bismarck chiedi a Sundimal quando lo incontri e lui ti indicherà la direzione giusta vedete qua c'è la tua indicazione poi possiamo andare a rileggere tutte le conversazioni quindi ragazzi io spero di avervi fatto una cosa gradita di avervi consigliato questo e spero di avvicinare magari qualcuno di voi a questo gioco che domani magari potrei rincontrare e potrei raccontarmi quanto si è divertito quanto ha fatto che è diventato il più bravo al mondo di Final Fantasy perché no? io vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata alla prossima e ciao 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 ciao